Il sindaco di Someria Mannelli, quest'oggi inaugurazione e apertura dell'Officina della Cultura e della Creatività e della Digital Libre del Reventino, insomma bella struttura aperta al pubblico da oggi. Sì, è una struttura che ha ricevuto un finanziamento importante su due linee PISL per un totale di 1.200.000 euro che oggi viene presentata alla cittadinanza perché siamo riusciti a concludere il lavoro nei 5 anni di mandato quindi siamo molto orgogliosi di presentare al Comune, al territorio, al comprensore una struttura di questa portata. Sono oltre 1.000 m2 di uffici, di spazi, adibiti ad incubatori di imprese, a start-up, a consulenze, a formazione, a un centro stampa, a sale multimediale e quant'altro con un'area esterna di 570 m2 a servizio del territorio, dei giovani, delle scuole, delle imprese per fare crescere l'area interna del Reventino Savuto quindi 17 comuni che gravitano all'interno di quest'area. Questa struttura sarà il motore pulsante del nostro comprensorio. Tutte le attività, le principali decisioni, i programmi di sviluppo che riguarderanno questo territorio saranno coniati e creati in questa struttura. Grazie.